Dicenze che questa squadra ha il cuore, ha il cuore che in tutti i momenti, anche quando abbiamo perso il finale mondiale, il finale Coppa Italia, ci hanno dato come secondi e oggi anche mi sembrava che eravamo secondi ancora, però la squadra non si è mai arresa, bravi tutti veramente, sono molto contento.